Ho accolto con piacere l'iniziativa AIAR Approda su YouTube perché l'ho ritenuta una valida opportunità di presentare ad un pubblico ampio e multiculturale la vasta attività che l'AIAR, l'Associazione Italiana di Archeometria, svolge nell'ambito della ricerca archeometrica. Una ricerca per definizione multidisciplinare è l'indagine scientifica di reperti di interesse storico-artistico e quindi multiculturale. L'Associazione Italiana di Archeometria, istituita nel 1993, è la principale associazione italiana a carattere scientifico senza fini di lucro che riunisce studiosi, professionisti e ricercatori attivi nel campo delle applicazioni scientifiche ai beni culturali. Da statuto, l'AIAR si occupa di promuovere e sviluppare le attività di ricerca, didattiche e professionali per lo studio e la salvaguardia del patrimonio culturale utilizzando metodologie scientifiche. Essa promuove contatti tra ricercatori delle discipline scientifiche e quelli delle discipline umanistiche per affrontare problematiche riguardanti lo studio, il restauro e la conservazione dei beni culturali. Le diverse competenze teoriche, metodologiche e di ricerca di base o applicata devono dialogare con le sempre nuove esigenze diagnostiche per la conoscenza, il restauro, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali. Per questo, l'AIAR incoraggia proposte e approcci operativi innovativi che portino al costante sviluppo di tecniche di analisi non invasive e non o micro distruttive, all'affinamento di tecniche per la datazione e gli studi di provenienza, allo sviluppo dei sistemi per il monitoraggio delle opere e degli ambienti di conservazione. Sono un socio AIAR, sono Valentina Venuti, ordinario di fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina, presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Messina. Svolgo la mia attività di ricerca nel campo della fisica applicata ai beni culturali, insieme ai miei colleghi storici, al professor Domenico Maiolino e alla professoressa Vincenza Cruchi, coadiuvati negli ultimi anni dal dottor Giuseppe Paladini, siamo dei fisici e ci occupiamo pertanto dell'utilizzo di metodologie fisiche di tipo sperimentale nel campo dei beni culturali, che applichiamo su diverse scale spaziali, dalla elementare alla molecolare fino alla scala macroscopica. Mi riferisco quindi sia a tecniche spettroscopiche convenzionali, quali la spettroscopia di fluorescenza di raggi X, la spettroscopia di assorbimento infrarosso intrasformata di Fourier, la spettroscopia Raman, che applichiamo sia in laboratorio che in situ, ma faccio riferimento in particolare a tecniche non convenzionali, a base di neutroni e di luce di sincrotrone, disponibili presso le large facilities europee. Voglio contribuire a questa iniziativa facendovi ascoltare uno stralcio di un'intervista che ho recentemente rilasciato al programma radiofonico Radar, segnali dalla scienza, dalla cultura e dalla società, un magazine di argomenti scientifici in onda, in diretta, il martedì, sulle frequenze di Radio 1 RAI per il Friuli Venezia Giulia. L'argomento della discussione è, come vedrete, estremamente interessante e al contempo ampiamente divulgativo. L'intervista si è incentrata in particolare sui risultati scientifici, oggetto di una recente pubblicazione sulla rivista Heritage, relativi all'utilizzo di tecniche a base di radiazione di sincrotrone per l'analisi di reperti ceramici provenienti dagli scavi archeologici della città medievale di Aksu, in Azerbaijan. Io ringrazio Lisa Vaccari, chimico responsabile della linea di luce di microscopia e spettroscopia infrarosso di elettrasincrotrone. Grazie di essere con noi. Buongiorno. E Valentina Venuti, professore ordinario di fisica applicata a beni culturali, ambientali, biologia e medicina dell'Università di Messina. Buongiorno. Grazie a voi. Grazie. Allora, noi oggi andremo a parlare di una ricerca che serve in qualche modo il passato. Vediamo come le tecnologie più correnti ci aiutano a capire qualcosa di più, di reperti e quindi della vita dei secoli passati. In questo caso stiamo parlando di frammenti di vasellame che provengono da Aksu in Azerbaijan e sono arrivati all'Università di Messina. Bene, i reperti oggetto di indagini e di analisi sono reperti ceramici provenienti dalla città medievale, dal sito archeologico medievale di Aksu in Azerbaijan. E' uno studio molto importante, direi da due o tre punti di vista, direi tre. Intanto, come ho detto, è un sito pressoché inesplorato da un punto di vista archeometrico. Ciò significa che in letteratura ovviamente c'è molto poco, c'è molto da fare. Ma ancora rappresenta certamente un esempio di approccio multimetodologico. Noi siamo dei fisici, in realtà non saremo solo fisici come vi spiegherò a breve, ma applichiamo quindi delle metodologie scientifiche di indagine. Eppure, diciamo, ognuna di queste metodologie fornisce dei risultati che sono esaustivi limitatamente ad una finestra di osservazione, ad una scala spaziale ben precisa. Pertanto se vogliamo, come vogliamo, conoscere la composizione dei nostri reperti a più scale, ovvero dall'infinitamente piccolo, dal singolo elemento fino alla disomogeneità macroscopica, dobbiamo, per forza di cose, utilizzare più tecniche. Ognuna delle quali si adatta ad una finestra di osservazione specifica. E altresì un esempio di approccio multidisciplinare ad una problematica. E come ho detto prima, io sono un fisico, per me conoscere un bene culturale significa conoscerne la sua composizione. Eppure, certamente, se mi limitassi a questo, mi fermerei a una mera caratterizzazione. Il reperto va chiaramente contestualizzato, il contesto va sviluppato, è un contesto storico, geografico, artistico, estetico. E per questo bisogna interfacciare e complementare le competenze. A questo proposito voglio e devo citare innanzitutto i colleghi fisici che insieme a me portano avanti da più di 30 anni questo lavoro di ricerca. Parlo in particolare del professor Domenico Maionino e della professoressa Vincenza Crupi dell'Università di Messina con cui condivido questo lungo percorso nel campo dell'archeometria nonché in particolare del professor Lorenzo Torrisi e della professoressa Letteria Silipini. Lo studio di questo gruppo è stato recentemente pubblicato sulla rivista Heritage. Ebbene sì, questo riguarda la parte fisica ma come ho detto è necessario contestualizzare un reperto per comprenderne la sua essenza in quanto espressione del grado di evoluzione di una civiltà, di un'epoca e dunque bisogna contestualizzarlo da un punto di vista geologico. Noi lavoriamo sempre con un gruppo in particolare di geologi ed in particolare il gruppo coordinato dal professor Mauro Francesco Larussa dell'Università della Calabria che è stato promotore delle campagne in Azerbaijan. E le metodologie che applichiamo sono metodologie scientifiche non solo di tipo fisico ma sono anche metodologie chimiche se si vuole risalire a una tecnologia di manifattura è indispensabile conoscere la composizione chimica del reperto e non solo del reperto, anche dei materiali del luogo con cui puoi confrontare la composizione del reperto per comprendere se quel reperto è effettivamente prodotto laddove è stato rinvenuto o è stato importato. E sono competenze anche, diciamo, il reperto va anche contestualizzato da un punto di vista biologico, è oggetto di degrado e molto spesso il degrado è un degrado biologico. Dopodiché chiaramente se si vuole comprendere il reperto quale espressione di un'anima, di uno stile e di un'epoca occorre l'architetto, lo storico dell'arte, l'archeologo e così via. Certo, quali sono stati i risultati che avete ottenuto in una prima fase di studio prima di passare poi al sincrotrone? Sì, allora, noi siamo partiti da una caratterizzazione mineralogico-petrografica del reperto che ha permesso un raggruppamento di queste ceramiche sostanzialmente un raggruppamento in due grandi gruppi per i quali è stato possibile ipotizzare una provenienza nella fattispecie di tipo cinese solo per uno dei due gruppi. E ben poco eravamo riusciti a capire riguarda la tecnologia di manifattura dei reperti stessi. E allora si è reso necessaria un approfondimento delle nostre analisi con delle ulteriori indagini che sono appunto quelle riportate nel lavoro che lei ha precedentemente citato e abbiamo effettuato delle indagini a livello elementale cioè di singolo elemento utilizzando così dettagli on beam analysis traduco subito un'analisi mediante fasci ionici sono fasci di protoni ad elevata energia dell'ordine del mega elettron volt e in questo caso abbiamo fatto riferimento all'istituto di fisica nucleare della Repubblica Ceca e che ci hanno permesso di risalire alla composizione appunto elementale dei nostri reperti. Ma questo non basta non basta per contestualizzarli da un punto di vista geologico non basta neanche per ricostruire la ricetta delle loro superfici decorate in termini di pigmenti e di leganti che è essenziale in quanto espressione del grado di evoluzione di una civiltà ma è anche essenziale in vista di una riproduzione fedele prima di qualunque intervento di restauro e proprio per questo motivo è stata indispensabile un'analisi a livello molecolare quale quella fornita dall'assorbimento infrarosso intrasformata di Fourier con radiazione di sincrotrone dal momento che l'elevata brillanza della sorgente di sincrotrone permette di ottenere degli spettri di elevatissima risoluzione anche nel caso di campioni rugosi o disomogenei come i nostri e voglio anche aggiungere che le tecniche utilizzate sono non invasive o al più micro distruttive noi abbiamo a che fare con reperti di inestimabile valore pertanto non vanno alterati né nell'interazione con la sonda né da un punto di vista meccanico non vanno grattati, non vanno tagliati cioè devono essere restituiti paro paro esattamente per quello che sono esattamente per quello che sono vediamo allora come si inserisce il sincrotrone in questa ricerca e chiedo anche a dottoressa Baccari di ricordare il ruolo di CERIC esatto Allora Elettra in questa Elettra sincrotrone nel contesto di questo lavoro diciamo agisce come membro del consorzio CERIC-ERIC che cos'è CERIC-ERIC? Eric è un ERIC quindi è un organismo riconosciuto dalla comunità europea che ERIC significa European Research Infrastructure Consortium non posso non tradurlo insomma un consorzio di ricerca che nel particolar caso di CERIC coinvolge soprattutto il centro Europa il sincrotrone di per sé è una una sorgente multicolore quindi abbiamo luce di tutti i colori e soprattutto nota per la sua componente a raggi X ma in realtà la luce di sincrotrone comprende anche radiazione energia più bassa quindi il visibile ma ancora più bassa tipo l'infrarosso che colore utilizziamo per andare ad analizzare la materia? questa è la cosa importante dipende dalla domanda che ci facciamo la domanda a cui si voleva rispondere qui in aggiunta alle altre risposte che erano già state ottenute era quale tipologia di composti costituiscono il nostro materiale perché in funzione della tipologia del VARC di composti uno riesce a capire essenzialmente a quale temperatura più o meno il manufatto è stato cotto questo è importante perché il raggiungimento di alte temperature o più alte temperature è anche conseguenza di un'evoluzione e quindi questo riguarda anche l'adattazione del manufatto assolutamente contestualizza il manufatto da un punto di vista dell'adattazione ma lo contestualizza anche un pochino da un punto di vista della provenienza avete avuto qualche sorpresa studiando questi reperti? ma diciamo più di altro ecco belle sorprese nel senso che per esempio nel caso del pigmento blu l'utilizzo di cuprorivaite ha confermato le ipotesi di una temperatura di cottura come diceva prima la dottoressa Baccari intorno agli 850-900 gradi centigradi tirata fuori dall'analisi della composizione di fasi mineralogiche beh è affascinante stare in un laboratorio a frugare nel passato credo con questi strumenti ho davvero messo insieme le mie passioni io provengo da un liceo classico poi sono una laureata in fisica ho davvero trovato la mia collocazione naturale il mio stato di equilibrio grazie a tutti grazie a tutti